Con il responsabile tecnico del gruppo Volley Club Leoni stanno per iniziare tutti i campionati, qualche gara in Coppa si è già consumata. L'obiettivo di quest'anno del gruppo UCL? Noi il nostro obiettivo societario è quello di fare crescere più possibili i giovani. Il nostro vanto è di avere a oggi circa 200 tesserati tra maschiette e femminucce. Il nostro obiettivo non è il risultato tecnico del campionato, bensì la crescita continua dei nostri ragazzi.